amici del canale buongiorno battuta al sciargo come il nostro vedo oggi però solo un'oretta ho intenzione di impostare la pescata solo con l'iprono cast lo faccio saltellare in tutti i modi soprattutto al canna bassa vediamo cosa succede andiamo a vedere ok via ragazzi spariamolo lontano lo faccio scendere mi posso permettere il lusso di farlo scendere veramente tanto perché conosco il fondo a me comincio un recupero lineare a canna bassa più o meno lineare qualche cercadina mi intanto a Grazie a tutti. L'ipnocast ha funzionato. Buona domenica a tutti ragazzi. Grazie a tutti.